E' stata una serata davvero interessante, pensata per i giovani. Abbiamo avuto l'occasione di parlare e di confrontarci con Pizzul, candidato alle prossime regionali. Secondo me la serata è stata molto utile perché riccio un po' le idee e andare un po' più in profondità nella scelta di voto che faremo il 4 marzo. Abbiamo affrontato diversi temi, quale il lavoro, la cultura, edilizia scolastica. Abbiamo parlato di tematiche quali il lavoro, i diritti dei giovani, tirocini, scuola. Si è parlato di politiche sociali, politiche per il lavoro, politiche abitative. Una cosa che mi porta a casa particolarmente significativa è stata l'apertura di Pizzul, non solo ora, comunque in campagna elettorale, ma anche in futuro, a quella che è la sua disponibilità ad ascoltare quelle che sono le richieste di noi giovani. Secondo me conoscere un candidato, in questo caso Fabio, è sempre utile per andare un passo avanti rispetto alle opinioni che uno si può fare anche solo leggendo un programma o semplicemente ascoltando un programma alla televisione. Una persona molto vicina ai giovani, aperta al dialogo e competente, quindi io il 4 marzo sceglierò, voterò per Pizzul e faccio un appello a tutti i giovani dicendo che è importante andare a votare, scrivere anche la preferenza e votare per chi si crede. Grazie per la visione!